che ha dato l'idea di quello che è poi ovviamente qua si potrebbe andare avanti all'infinito aggiungendo periodi aggiungendo eventi abbiamo inserito un solo personaggio ricorrente che questa casata e gli stammerform potrebbero essere in salita degli altri si potrebbe andare a esplorare cosa ne è stato e l'arcima gomellino abbiamo tra l'altro parlato relativamente poco delle guerre tra le razze che doveva essere un focus principale e non è neanche morto gianni che una cosa che mi ne è molto deluso non abbiamo scoperto queste statue goblin tra le altre cose comunque poi tecnicamente adesso noi qua a scopo dimostrativo abbiamo fatto solo quest'unica sessione di due giri molto corta tecnicamente il gioco può essere portato avanti per varie sessioni quindi si salva questa mappa semantica e la sessione dopo si va avanti aggiungendo nuovi eventi e nuovi focus potenzialmente si potrebbe decidere di iniziare una nuova partita conservando non lo so vogliamo esplorare particolarmente il periodo del dominio dell'uso della magia ok si prende il primo e l'ultimo evento di quello specifico periodo e si fa diventare il periodo iniziale poi tecnicamente come abbiamo detto all'inizio questo può essere usato per creare un'ambientazione fine a se stessa che quello abbiamo fatto noi stasera può essere usato per creare un'ambientazione per una quest o qualcosa del genere si vengono definiti magari a monte l'inizio e la fine in base alle necessità della quest e poi si va a scrivere l'ambientazione potenzialmente le singole scene potrebbero essere giocate con altri regolamenti per andare più nel profondo sì anche la scena di per sé è una sorta di piccolo minigioco sì perché il sistema di microscope prevede poi un sottosistema per la gestione delle scene ma volendo questo sottosistema potrebbe essere sostituito da un intero altro sistema in base al focus della scena certo come ha fatto il re a scappare all'assedio ok può essere giocata con uno skirmish più classico alla dnd i giocatori fanno i loro personaggi e fanno potrebbe essere usato per gestire magari questioni politiche all'interno di un gioco più orientato al combattimento cosa del genere ha molteplici usi come come sistema comunque vabbè grazie a tutti quelli che hanno partecipato per la dimostrazione signori se volete dire qualcosa qualche considerazione finale bello molto più di un sacco non penso ci sia altro da dire anche a me io sono in fissa totale adesso voglio poi provare a organizzare altre cose ma vedremo poi vabbè grazie al master etilico che si è prestato alla dimostrazione grazie a voi di essere venuti di aver creduto in me sono già 26 minuti che non bevo stanno tutti guardando per vederti fallire non volevo dirtelo all'inizio avanti ho fallito più volte quindi va bene così ma una domanda cioè non so se avete tutti quanti il time out quindi non so pure tu Kai se no non mi ha posto a restare beh mi ti restava a sapere quindi a voi è piaciuto? cioè lo rigiochereste? sì io sì l'avete trovato come qualcosa di nuovo? vabbè anche se il gioco di per sé c'ha più di una decina d'anni almeno una versione diciamo pubblicata credo aspetta che lo vedo sì però non so da quanto da quanti anni fosse in 2011 vado a memoria un gioco dell'anno qualcosa 2011 sì diciamo poi vabbè dalla data di pubblicazione non so da quando lo stessero testando dicendo però io per esempio non lo conoscevo la prima volta che l'ho giocato è qualche settimana fa e ah sì 2011 c'era il gioco del MasterCard e a me è piaciuto molto e lo vorrei adottare proprio anche io diciamo se dovessi nella prossima ambientazione campagna quello che sia lo vorrei utilizzare quei giocatori proprio per definire questi un mondo che già sia in qualche modo condiviso con loro ah sì il vantaggio è che se da questo adesso dovessimo partire con una campagna più classica di non lo so sto pensando Strombringer più che altro proprio della magia bizzarra comunque se dovessimo partire con una campagna più classica tecnicamente tutti sanno già la storia del mondo il Master non deve spiegare niente questo riduce sia i tempi di spiegone da parte del Master e in più essendo un'esperienza gamificata per imparare l'ambientazione mette anche molto meno stress i giocatori mettiamola così e la domanda è ma voi la giochereste per esempio prendiamo D&D o prendiamo D20 o prendiamo Stormbringer un gioco che a voi piace voi la giochereste una io sì anche perché lo trovo un sistema molto migliore di quello utilizzato da Fabula Ultima per creare l'ambientazione onestamente no no ma io dico proprio come diciamo se giocheresti questo tipo di mondo sì 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 è quello che dicevo io cioè nel senso Fabula Ultima si basa sul fatto che i giocatori costruiscono insieme un mondo e poi ci fai una campagna ma questo sistema è mille volte meglio di quello e vabbè a parte il fatto che questo ha molti piani sviluppo alle spalle ma il vantaggio di questo è che è focalizzato sullo scrivere l'ambientazione non è un gioco in cui scrivi l'ambientazione e poi fai altro quindi sì permette di andare più nel dettaglio è lì che io vado in fissa totale nel senso io personalmente come giocatore amo scrivere sfondi amo scrivere situazioni personaggi background e questo mi stimola molto nel senso come concept di gioco di ruolo per me personalmente io lo trovo molto interessante sì io lo trovo interessante perché permette diciamo di condividere la creazione dell'ambientazione del mondo cosa che per esempio a me deprima un po' quando la creo da solo per un'ambientazione perché io sono il fattore del co-master per esempio masterizzare in due oppure masterare esatto diglielo 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 e questa cosa è una via di mezzo cioè e comunque se è fatta con i giocatori del gruppo che noi tendenzialmente vuole mettere su per giocare secondo me da un ma mi chieda così il vantaggio in questo senso è che questo ti permette di fare war building anche se il resto del tavolo non ha competenze nel campo del war building sì perché tecnicamente due master che sanno quello che stanno facendo si siedono uno davanti all'altro e cominciano a creare l'ambientazione punto in realtà vanno anche più veloci di quello che abbiamo fatto noi stasera se però nel caso più normale c'è un master al tavolo e altra gente che magari sono anche bravi a giocare ma non hanno competenze specifiche in questo campo questo permette a tutti di contribuire allo stesso modo indipendentemente dall'abilità iniziale sì e poi e poi diciamo così c'è più possibilità anche di trovare cose originali perché metti statisticamente mettendo insieme 4-5 persone c'è più possibilità ma poi e poi comunque se il master prende questo prodotto e ci crea sopra le sue quest tutto quello che vuole cioè comunque c'ha spazio per inserire qualsiasi cosa che diciamo non faccia trovare i giocatori in qualcosa di già definito cioè mettendosi in mezzo di qualsiasi evento e qualsiasi periodo comunque c'è sempre libertà è vero che ci sarebbe un po' l'effetto Sime degli Anelli sai che poi Sauron alla fine muore vabbè è comunque uno strumento per il war building e non per le quest quindi quando tu inizi a scrivere una storia devi sapere almeno a grandi linee il finale quello è normale però i giocatori saprebbero già magari alcune cose che potrebbero succedere dopo migliaia di anni diciamo questo è giusto l'unico piccolo scotto che si potrebbe pagare però voglio dire sempre relativo ma in realtà in realtà non sei obbligato a giocare la campagna diciamo che hai narrato quella potrebbe essere la storia della campagna che poi tu scriverai e perciò i giocatori giocheranno in un mondo cioè tutto quello che succederà succederà dopo tutto quello che ci si è inventato o anche prima perché comunque ribadisco che Warhammer Fantasy è comunque divertente da giocare anche se sai che il caos alla fine vincerà sì 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 ma al di là di tutto comunque al di là di alcune scene la cosa lascia comunque talmente tanti spazi per cui nel nostro caso noi sappiamo che c'è un periodo chiamato le guerre del possesso che termina con la tragedia shakespeariana di casa Stammerford però ci saranno state chissà quante altre case chissà quante altri eventi che potrebbero succedere sullo sfondo di tutto questo ma anche solo i personaggi sono un gruppo di partigiani della casa Stammerford che sono dovuti scappare e adesso devono sopravvivere in un mondo in cui i metalli magici possono esplorarti in faccia per esempio quale sia poi la storia specifica di quella quest comunque rimane ignoto per i giocatori secondo te secondo te quant'è quant'è originale questo il metallo instabile da cui trarre poi diciamo potere magico zero perché l'ho preso d'Ars magica mettila così parlando proprio da master non esistono idee originali tutto è un remix qua abbiamo tutta una serie di troppe già codificate ma è normale ma infatti dicevo quanto però mettila così in quanto come specifica combinazione personalmente non mi sembra di averlo mai visto una roba del genere però sicuramente sono event che vabbè quello detto la casata di Stammerford è proprio tragedia shakespeariana 101 metallo magico è preso da ovunque tra l'altro in un'ambientazione che usavo io anni fa c'era un evento molto simile poi videogiochi libri cosa del genere due soli nel cielo anche quelli è un troppo che serve a indicare quanto sia strana e aliena l'ambientazione il consiglio dei maghi è un troppo diciamo che i singoli elementi difficilmente sono innovativi la combinazione e l'uso che ne fai potrebbe risultare interessante per i giocatori però parliamo sempre di robe del tutto personali quindi è quello che poi si riflette nel gioco perché comunque uno quando gioca un'ambientazione che deve scrivere molto spesso si rifà un libro che ha letto che gli è piaciuto molto un film che l'ha colpito particolarmente quelle cose poi ti rimangono in quanto troppo poi dopo rientriamo sempre lì quindi le metti in gioco ma anche se io scrivessi una quest probabilmente ci metterei in gioco cose che a me piacciono che mi ricordano che ne so ma anche che non ti ricordi anche inconsciamente magari li andresti a ripescare io posso portare un esempio molto banale qualche anno fa ho giocato come giocatore sotto un master una quest regolamento vagamente cyberpunk ion trinity della white wolf e la storia non so se quanto consciamente inconsciamente era praticamente il primo deus ex io ci avevo giocato quindi per me la storia era abbastanza scontata evidentemente gli altri giocatori al tavolo o non ci hanno mai giocato non l'hanno riconosciuta per loro era incredibilmente entusiasmante e piena di colpi di scena quindi la cosa anche da quel punto di vista è soggettiva sì sicuramente infatti io sono contento della mia ignoranza signori se volete salutare il pubblico ciao mamma non so per dirla tanto per ritornare all'originalità bevete smutatamente e così si conclude anche la nostra dimostrazione estiva di microscope abbiamo fatto solamente due giri ma dovrebbe essere abbastanza per avervi fatto capire come si gioca nel caso comunque sul gruppo discord ogni tanto vengono organizzate le sessioni anzi tempo che io caricherò questo video molto probabilmente ce n'è già stata tenuta una seconda nel caso passate sul gruppo e chiedete se volete organizzare qualcosa e incontrerete anche il resto della community comunque adesso la parola sta a voi fate le nostre opinioni in merito le avete sentite in quest'ultimo video fateci sapere cosa voi ne pensate se lo conoscevate se non lo conoscevate se avete deciso che adesso lo prenderete come alcuni di quelli che hanno partecipato al gioco o se giochi del genere non sono affatto quello che interessa a voi come sempre io sono il Master Kai e noi ci vediamo con la prossima stagione ciao ciao ciao